Quattro strade provinciali ritornano a Lanas, sono la 225 della Fontana Buona, 586 dell'Aveto, 654 della Valnure e 523 di Centocroci. Fermo nei preparativi per la saga del pesce di camoglio in programma domenica prossima. Adolescenza, rischi e disagi, questa mattina partecipato convegno a Chiavari. Il coraggio di Emma, ultimo romanzo di Patrizia Gallina. Buonasera ai telespettatori di Tiguglia, iniziamo la serie delle nostre notizie dei servizi parlando di viabilità. E' ufficiale, le quattro strade del nostro territorio ritornano a Lanas, come era un tempo. Si tratta della 225 della Fontana Buona, 586 della Valle dell'Aveto, 654 della Valnure e 523 del Valico di Centocroci. La maggior parte delle strade collegano con la regione Emilia-Robagna. Vediamo. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2018, che sancisce il passaggio di circa 300 km di strade Liguri dalle province ad Anas. Lo rende noto l'assessore regionale Infrastrutture Giacomo Giampedrone, dopo un iter che ha visto la Liguria capofila insieme alle Marche di un fronte di 11 regioni, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana ed Umbria, impegnata nel difficile compito di riconsegnare allo Stato una serie di strade ad alta percorribilità e con caratteristiche di interregionalità per superare le difficoltà di gestione della rete viaria da parte delle province, che per effetto delle passate riforme non hanno subito una continua decortazione di fondi su un tema così importante. Sono 12 le strade in questione in Liguria, di cui è sancita la riconsegna ad Anas, tra cui 4 del territorio levantino, cioè la 225 della Fontana Buona, che collega l'Aurelia Chiavari alla statale 45 in località Bargagli, la 523 del Colle di Centocroci, che dal confine con la regione Emilia-Romagna, si collega con Sessi Levante, quella della Val Daveto, che dall'Inesto con la 654 a Rezzoaglio, si collega alla 225 a Carasco, e quella della Val Nure, che dal confine Emiliano, al passo del Tomarlo, raggiunge Rezzoaglio. La Liguria ci ha creduto subito, dice Gianpedrone, nella difficile partita di sollecitazione e confronto con il Ministero delle Infrastrutture dell'Anas. Il tema delle strade provinciali è molto delicato per la Liguria, in questo siamo stati chiamati ad intervenire in queste tratte in concomitanza con stati di emergenza di protezione civile, ma esiste comunque un problema di ordinarietà manutentiva che dalle province non può essere affrontato per la carenza di fondi, nonostante la compotenza sia rimasta loro. Una notizia che riguarda la scuola, una visita coinvolgente e professionale. Così gli studenti dell'Istituto Caboto, che vediamo nelle foto, di Chiavari hanno definito la visita alla sede genovese di Rai 3, per partecipare al programma ideato dalla Direzione Comunicazioni Porte Aperte. La visita ha coinvolto la quarta grafici, gli studenti del commerciale che già partecipano attivamente all'organizzazione del Festival della Parola di Chiavari. Accompagnati dal preside Glauco Berrettoni, dalle docenti Anna Maria Sanguinetti, Anna Maria Rocca, Alessandra Vano e Annalisa Fornasari, sono stati accolti dal direttore Massimo Ferrario, che ha messo a disposizione gli studi a uno staff di giornalisti e tecnici della registrazione. Gli studenti hanno quindi potuto realizzare un vero telegiornale, se appure in forma ridotta, e montarlo loro stessi. Al termine della giornata, il dirigente scolastico Glauco Berrettoni ha consegnato come ringraziamento Natalia Rigò del Caboto ai dirigenti di Rai 3 Liguria. A Camoli fervono i preparativi per la consueta e tradizionale e partecipata Sagra del Pesce, che è in programma per domenica prossima. Vediamo. Fervono i preparativi per la Sagra del Pesce di Camoli, che si svolgerà domenica prossima, la cui prima edizione risale al 1952. È entrata nella storia per la famosa padella del peso di 26 quintali, con un diametro di 3 metri e 80 centimetri. L'organizzazione è curata dal Comune, dalla Proloco di Camoglie e sponsorizzata da Friol. Sabato prossimo, sera della vigilia, si terrà la consueta celebrazione religiosa, con la processione dell'Arca di San Fortunato, accompagnata dalla banda Città di Camogli. Successivamente sulla spiaggia si potrà ammirare lo spettacolo dell'incendio e i falò e i fuochi d'artificio. Domenica sarà invece il gran giorno della festa, con 30 quintali di pesce azzurro, che saranno fritti nel maxipadelone, in oltre 3.000 litri di olio, il Friol sponsor ma è storico della manifestazione. Migliaia di partecipanti da tutta Italia potranno gustare il pesce, offerto dalla cooperativa Pescatori di Camogli e dalla ditta Martini. Nelle scorse settimane è stato decretato il vincitore del classico concorso Un Manifesto per la Sagra del Pesce, edizione 2018. Si tratta di Beatrice Filograno di Genova, 34 anni, architetto. La sua opera sarà riprodotta sui manifesti, sui dépliants, sui piattini dedicati alla manifestazione. La seconda opera classificata è di Silvia Genarelli di Recco, la terza di Enrico Massone di Camogli. I proventi della 60 centesima Sagra del Pesce saranno devoluti alla tonara della cooperativa Pescatori di Camogli. Passiamo alla notizia di cultura. Venerdì prossimo alle 21 va in scena l'anteprima nazionale dello spettacolo Ovidio o l'arte di amare di Nicola Gardini e Carlo Favra. La stagione 2017-2018 di Stori Teatro, organizzata dal Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi. Si chiude con questa produzione che inaugura il progetto di Maifredi e Gardini, Viva il latino, storia e bellezza in lingua inutile. Stesso titolo del bel seller di Gardini edito da Garzanti nel 2016 e subito impostosi come fortunato caso editoriale festeggiato nelle 12 edizioni. Il volume sarà in vendita la sera dello spettacolo nel foie del Teatro di Sori. Importante convegno questa mattina a Chiavari dal titolo Adolescenza, rischi e disagi. E' molto partecipato e un argomento di grande attualità. Vediamo quanto è emerso nel servizio di Marisa Spina. Ci sono stati alcuni termini che lei ha usato per identificare un certo tipo di comportamento che dovrebbero avere i genitori nei confronti degli adolescenti ed erano presenza, ascolto e limite. Ecco, questi tre aggettivi, come si sposano con il rapporto genitori-figli nel contesto dell'adolescenza? Allora, sono comunque aspetti che credo che dovrebbero caratterizzare la relazione genitori-figli fin dall'inizio. È difficile poter creare dei comportamenti in fase adolescenziale perché la famiglia è ingaggiata nell'adolescenza tutta, è qualcosa che si maneggia con difficoltà e che si vive anche con una certa sofferenza da parte anche dei genitori. Il segreto credo che sia proprio quello della relazione con questi aspetti fondamentali instaurata fin dall'arrivo del figlio in famiglia. Un viaggio che non è solamente un fatto geografico ma è un percorso professionale. Che esperienza ha portato? Beh, ho portato la mia esperienza 25-annale nel settore delle toscodipendenze, nell'aiuto ai ragazzi e alla famiglia che sono incappate in questa difficoltà della vita. Per cui quella che è stata la mia esperienza ho cercato di portarla in questa tavola rotonda con l'obiettivo di dare un piccolo contributo a chi si occupa ancora di queste difficoltà e alle famiglie, agli insegnanti che in qualche modo hanno il loro ruolo educativo per la crescita dei ragazzi. Io sono molto contenta delle persone che hanno organizzato questo incontro e spero di aver dato insieme ai miei colleghi qualche risposta ai genitori, agli insegnanti che erano presenti in aula. Qualche risposta perché ovviamente nessuna risposta può mai essere esaustiva totalmente, rimane sempre un ambito di incertezza che è anche importante che le persone colmino da sole. Chi è l'adolescente di oggi? Quello che è venuto fuori questa mattina ma quello che lei professionalmente ovviamente conosce in maniera dettagliata? L'adolescente di oggi è un adolescente connesso, è un adolescente che vive in quelle che appunto, prima ho chiamato epoca delle passioni triste, in tempi incerti che cerca una strada nel mondo sapendo che tutto quello che è tutto in divenire e che appunto, come diceva il collega, al 65% non sa quale lavoro andrà a fare. Che se da un lato è una cosa inquietante però da anche un margine di libertà che non alla nostra epoca forse non c'era. In due parole, che tipo di considerazione fa di questo incontro oggi? Direi che è un momento importante ricordare periodicamente e chiamare la comunità, la comunità dei cittadini periodicamente attorno ad un tema importante nella realtà locale del territorio. Su questo tema ma anche su altri temi non meno importanti che possono riguardare appunto lo sviluppo dei giovani, la famiglia, la parte dell'occupazione, la parte del mondo del lavoro, la scuola soprattutto. Io credo che se la collettività ha modo e occasione di ritrovarsi come oggi ha fatto anche l'amministrazione comunale, credo che sia una risorsa del territorio proprio. Un'altra notizia di carattere culturale, come in ogni settimana, per martedì prossimo alle 16.30, tredicesimo corso di cultura genovese a cura dell'Associazione Culturale o Castello. Il titolo è Arrivederci a Casimiro e a Pippo, una conversazione curata dal vice governatore del Castello Cesare Dotti nella sala livellara di Chiavari. Rimaniamo in campo culturale. È stato presentato l'ultimo romanzo di Patrizia Gallina dal titolo Il Coraggio di Emma. Vediamo l'intervista all'autrice curata da Joel Cappello. Un romanzo ambientato nell'Ottocento, Il Coraggio di Emma, il terzo libro scritto da Patrizia Gallina, un libro che potete trovare a Genova, però potete anche contattare direttamente l'autrice. Intanto chiediamo un attimo dove è ambientato e qual è il tema di questo libro. Sì, allora intanto siamo nel periodo dell'Ottocento e è ambientato in Inghilterra, il mio libro, il romanzo storico dell'Ottocento. Tratta appunto, è un libro che il tema viene affrontato diciamo spesso, è il tratto contro la violenza sulle donne. La trama appunto del mio libro è, diciamo, siamo appunto negli inizi dell'Ottocento in Inghilterra, dove c'è una giovane ragazza che rimane orfana, il suo nome è Emma Wilson, nonostante tutte, diciamo, le difficoltà, trova sempre il coraggio di affrontare e andare avanti con la sua vita. In seguito, diciamo, incontrerà anche l'amore della sua vita, ma, diciamo, come tutti i romanzi, non voglio appunto svelare il finale del mio libro. Il mio libro lo trovate anche presso la libreria a Genova, Saffigie, e presso alcune librerie di Genova. Ricordiamo anche chi l'ha pubblicato questo libro, perché è la casa editrice che ti segue già da diverso tempo. La casa editrice Egic, come avevo pubblicato anche diversi due miei libri, e Egic. E ricordiamo allora, mai detto, a Genova, quindi. A Genova, sempre ricordiamo, presso le librerie, diciamo, come citavo prima, Saffigie di Genova e presso alcune librerie di Genova. Antonella Dugnani Chiarella è la presidente di Soroptimist International per il Tiguglio, un evento, quello che presentate quest'oggi, che va a coprire un aspetto nazionale del vostro service. Intanto il service, da quanto tempo è in Italia e come funziona? Allora, in Italia è dal 48 e corrisponde col voto alle donne. È nato a Milano, nei club di Milano, dopodiché si è praticamente divulgato in tutta Italia, man mano ci sono stati aperti dei club. Il nostro club è nato nel 1974, in un ricevimento del Parc Hotel Swiss di Santa Margherita, tra le quali la proprietaria è ancora nostra socia. Siamo in questo momento 42 socie e abbiamo avuto questa idea importante di fare un consiglio nazionale qui nel Tiguglio. Il primo consiglio è stato fatto 36 anni fa qui nel Tiguglio e dopo tanti anni, su mia idea, l'abbiamo riportato nel nostro territorio. È un evento non solo importante per la nostra associazione nazionale, ma è anche importante per la nostra terra, il nostro territorio, dove appunto volevamo far conoscere le bellezze che noi abbiamo nel nostro contesto. Cosa accadrà durante il congresso? Allora, nel congresso inizieremo innanzitutto una serata importante il 10 di maggio a Sestri Levante, dove ci saranno tutte le cariche nazionali riunite, che si chiama il Burò. Dopodiché il venerdì inizieranno i lavori, dove arriveranno tutte le delegate, perché questo è il consiglio delle delegate ed è tra l'altro l'avvenimento più importante di tutto l'anno per la nostra associazione. Inizierà il tutto a Rapallo, perché per questioni di territorio, che siamo in un territorio lungo e stretto, perché i nostri comuni di competenza vanno da Sestri Levante a Portofino, sono sette comuni, e ovviamente abbiamo dovuto un pochettino restringere il campo, perché trasportare 500 persone o accogliere in certe location 500 persone era praticamente impossibile. Per questo è stato scelto l'Eccelsior Palace Hotel di Rapallo, dove ha una sala congressi che ha una capienza tale da poterci ricevere tutte quante, e faremo alla sera poi il cocktail di benvenuto proprio all'Eccelsior. Ci sono dei progetti in questo momento sui quali state lavorando? Allora, noi in questo momento abbiamo praticamente concentrato il tutto sul congresso nazionale, è perché è stato un lavoro molto impugnativo, anzi ringrazio tutte le socie che mi hanno aiutato, hanno lavorato in echipe molto bene. Invece, lì nel congresso nazionale principalmente si parlerà dei progetti nazionali, e ci saranno dei confronti tra i progetti dei singoli gruppi, dei singoli club. Lascerò poi questo compito di spiegazione alla Presidente nazionale, perché sarà lei che dovrà condurre tutto il congresso. Noi abbiamo fatto principalmente un lavoro di accoglienza e di preparazione all'avvenimento che stiamo facendo. Ci sarà anche un rinnovo delle cariche? Sì, c'è il rinnovo delle cariche, è importantissimo perché quest'anno, che è un po' anomalo, nel senso che non è quasi mai successo, ci sono quattro candidate alla Presidenza nazionale. Sarà anche un importante e un problema riuscire poi a... Sì, sì, la gestione, perché in effetti c'è tanta campagna elettorale. Sarà una Ligure tra questi? No, 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 Liguri no, noi abbiamo una nostra socia nel club, che è una componente del nazionale, che è la dottoressa Anna Maria Genovese, però come candidata alla Presidenza no, non siamo ancora pronte. Abbiamo dimenticato di dire quali sono i giorni. Allora, i giorni principali di lavoro sono l'11 maggio, che sarà l'arrivo di tutte le delegate, il 12, che sarà il giorno che si svolgeranno i lavori, che è sabato, e il 13, che finiremo i lavori e poi abbiamo organizzato una gita a Montallegro, che il prete ci farà una messa solo per noi e poi pranzeremo lì. Giuliana Algeri è una socia di Soroptimist, ma in questo momento è la creatrice di un biglietto da visita che sarà donato alle partecipanti al congresso nazionale di Soroptimist. È un lavoro che vuole essere un presente, ma anche una traccia di questo territorio. Sì, assolutamente, è stato pensato in questo modo, perché purtroppo i comuni del Tiguglio ragionano ancora ciascuno per suo conto. Io già quando ero funzionario dicevo, ma se il Tiguglio vuole contare di più, deve cercare di unirsi e di fare delle iniziative in comune. E allora, proprio partendo da quest'idea, ho creato questo puscolo che mette sullo stesso piano, in una linea che è quella della linea della costa, le opere più rappresentative del Tiguglio, che non sono opere di poco conto. Ecco, perché andiamo dalla Bazzia della Cervara, che è diventata veramente un'eccellenza per questo territorio, al dipinto di Van Dyck di San Michele di Pagana, alla tavola senese di Primo Trecento, che è a Lavagna, che al momento è l'opera su tavola più antica che si conserva in Liguria, alla Basilica dei Fieschi, a San Nicolò di Sestri, cioè mettendoli in fila si vede che ci sono tante eccellenze. E io spero che sia un biglietto da visita per tutte le persone che verranno, ma anche un incentivo per chi abita qui a pensare delle iniziative che leghino, più di quanto non si faccia oggi, tutti i comuni del Tiguglio. Lei in attività è stata la sovrintendente ai beni culturali della Liguria, quindi nel fare questa scelta che cosa ha privilegiato da presentare come territorio? Io ho cominciato la mia carriera di funzionario prima di essere sovrintendente proprio come tecnico di zona del Tiguglio, quindi conosco il Tiguglio da ormai quasi più di 30 anni, 35, e parte delle opere che ho presentato sono opere che ho individuato io, come il Bernardo Strozzi di San Maurizio di Monti, e sono opere che ho conosciuto nel tempo. Quindi per fare questo, d'altra parte senza esperienza, non si va molto lontano, e quindi ho messo a frutto l'esperienza di tutti questi anni per cercare di creare una pubblicazione gradevole. Ho cercato soprattutto di fare un testo agile, che desse informazioni, per esempio la scheda sui portici di Chiavari, è stata l'occasione per dire che Chiavari ha un preciso danno di nascita, data di nascita nel 1178, spiegare come è nata Chiavari, cioè ho cercato delle opere che fossero rappresentativi anche in questo senso e che mi dessero l'occasione per far conoscere anche un po' la storia al di là dell'opera che viene presentata. Quando sarà consegnata cosa dirà alle socie? Ma la troveranno nella borsa che verrà consegnata e io non dirò niente, spero che apprezzi, no? Però il titolo? Il titolo l'ho pensato io, Voglia di Tigulli, o proprio infatti nella presentazione che ha fatto la Presidente, dice è stato fatto apposta per voi, proprio per creare in voi della curiosità e tanta voglia di Tigulli in modo che torniate. Ecco, l'intento è quello, non solo venire una volta in questa occasione, per alcune un'occasione burocratica, diciamo, ma suscitare l'interesse anche per una visita assolutamente ludica. Siamo all'interno dello storico ristorante universale di Lavagna. Renato Montereggio è il nuovo gestore, poi se avrà piacere ci racconterà, e ritroviamo questo antico locale, abbiamo già delle immagini che registramo un po' di tempo fa, incredibilmente affascinante, dove è stato ricercato con un restauro conservativo importante l'originale, e anche quello nuovo si è camuffato da antico. Bellissimo, bellissimo. Allora Renato, sappiamo che apri? Apro giovedì sera, inauguriamo, facciamo una bicchierata, dove la gente verrà, c'è qualche stuzzicchino, se ne prendono, come si suol dire, un gotto, e partiamo. E da sabato 12 partiamo. Partiamo con mille entusiasme, nonostante che abbiamo qualche anno in più, però è una nuova avventura. Speriamo che ci dia una bella carica, e avanti che usciamo. Lo farà perché sei in uno dei posti storicamente più importanti della città di Lavagna, perché il Giardino Universale, così si chiamava totalmente il complesso, era trattoria, bar, bersò esterno e locale da ballo. Il Giardino Universale, nel vulgo lavagnese, in Tavigna, per 50 anni è stato uno dei dancing più belli del Golfo del Tiguglio. Oggi addivito miseramente a parcheggio, ma tutta la parte interessante, quella del locale, è intatta, intonsa, e, se possiamo dire, recuperata in modo incredibile. Senti, non ho anche una domanda, ci ti parla anche un po' senese, perché non siamo davvero il genere. Terra o mare? Mare, con qualche inserimento del menù della lampara, tipo il minestrone, i ravioli. Che era locale per il nostro pubblico che avevi precedentemente. Precedentemente. Non so, le crepe di farina di castagna ripiene di pesto, tutte queste cose che faceva la lampara, la trippa, lo stoccafisso che facevo là, le voglio ripetere qua. E poi mare. Poi mare. Come facevi, in quello precedente ancora, del timone. Esatto. Del timone. Senti, hai la squadra di governo collaudata. La squadra di governo collaudata. Mia moglie è in cucina, assieme alla Cristina, Cristina Trucchi, Ettore Purro, e poi c'è anche una famosa Luisa che è con noi da tanti anni. la squadra e io sono in sala con la Veronique che serviremo la gente. Speriamo di assumerne ancora di più per poter lavorare di più. Dimmi un po', quanti coberti hai intenzione a fare? in inverno, poi in Tastè e Ucanti. In interno abbiamo 50 posti, poi fuori nel Deor c'è anche 200, 250. però non ho intenzione di fare 250, a meno che non sia un evento particolare. Certo. Senti, per non tirarla troppo lunga, perché sennò poi il pubblico cambia canale, un sacco di in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo. Allora noi, io e Marco, non vediamo l'inaugurazione, saremo tuoi ospiti la prima sera. perché ci veniamo a picciare i panetti, ma te è matto. Te capisco o mi frego così. Renato Montereggio. Grazie. Previsioni del tempo per domani domenica 6 maggio. Spiccata variabilità con nubi alternate schiarite, possibili deboli precipitazioni più probabili sui rilievi. Venti in prevalenza deboli di direzione variabile. Mare poco mosso. Temperatura sulla costa da 19 a 24 gradi. Nell'entroterra da 13 a 21 gradi. Revisione per lunedì 7 maggio. Ancora variabilità con piovaschi sparsi. Venti moderati. Mare poco mosso. Temperatura...